E' la French che detta legge. E' una maledetta piovra. Tutto il mondo sa chi dirige l'organizzazione. Mandiamo un segnale a Zompa. Facciamogli sapere che la festa è finita. Ok, intervenite. Non stai rischiando la vita. Se toccasse alle nostre figlie e se capitasse qualcosa a te, hai pensato a me? Lasci perdere, signor giudice. La cosa va a finire troppo in alto. Ma coraggio, ma è meglio che non ci rivediamo noi due. Meglio per Gioia. Per me o per lei? Meglio per Gioia. Grazie a tutti.